Ciao! Con i suoi 31 giorni, luglio, è il settimo mese dell'anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell'estate nell'emisfero boreale, dell'inverno nell'emisfero australe. Il mese fu chiamato così in onore di Giulio Cesare, nato il 12 di questo mese. Secondo alcune fonti, il 13. Anteriormente, nel calendario di Romolo, era chiamato quintile. È da sempre considerato il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta dei frutti della terra. Per questo motivo i Romani lo consacrarono a Giove, padre di tutti gli dèi. Dal punto di vista astronomico, è un periodo favorevole all'osservazione del cielo, in particolare della Via Lattea, molto luminosa, e di numerosi campi stellari. Guardate il video fino alla fine, oltre ai proverbi vi aspettano ulteriori curiosità su questo mese. Cominciamo. Si consideri che alcuni proverbi sono più o meno dialettali, quindi qualche parola, o santo, potrebbe non corrispondere esattamente all'enunciato italiano. Ma procediamo. Quando l'uglio è ardente, mi è telesto. Fino a Santa Margherita, il gran cresce nella bica. Per Santa Maddalena, la noce, e la nocciola, è piena. Per Santa Maddalena, si taglia l'avena. Per Santa Maddalena, se il grappolo è serrato, il vino è assicurato. Se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto. Se non fa caldo di luglio e di agosto, sarà tristo il mosto. San Giacomo con i tetti bagnati, del vin siamo privati. La pioggia di Sant'Anna è una manna. Se piove a Sant'Anna, piove un mese e una settimana. Se le formiche s'agitano a Sant'Anna, tempesta ai piedi della montagna. Se piove a Santa Maddalena, si riempirà la fontana. Quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti saldo. Luglio poltrone porta la zucca col melone. Per San Giacomo e Sant'Anna, entra l'anima nella castagna. Chi vuole un buon rapuglio, lo semini in luglio. Se piove con soleone, le castagne sono tutte guscioni. A luglio gran calura, a gennaio gran freddura. Presto la pioggia suol venire a noia, ma in luglio è un ricco dono e apporta gioia. Quando in luglio il fumo resta nel camino, il tempo sarà troppo caldo. Ed ora alcune curiosità legate a questo mese. Luglio è l'unico ad avere due giorni immaginari utilizzati nella letteratura fantascientifica e nel sottogenere della canzone denominata Demenziale. Il 32 luglio è il giorno in cui gli abitanti di una società totalmente asservita ad un immaginario potere temporale e vivevano in permanenza nel romanzo Breve il tunnel sotto il mondo, del 1955, di Frederick Paul, trasposto in film nel 1969 da Luigi Cozzi. Mentre 38 luglio è il titolo del primo singolo del 1973 del gruppo degli Squallor. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine, spero che ti sia piaciuto. Se è così, lascia un like e iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Alla prossima!